Lavorare dentro il teatro era un'esperienza incredibile perché sentivi che eri parte di un'istituzione. C'era un orgoglio nel far parte. Io quando mi mettevo la spilletta della Fenice, la pollastra come la chiamiamo, era un orgoglio perché sentivi che permettevi l'esistenza di qualcosa che era di tutti quanti. E nel frattempo scoprivi questa musica inoltre, 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 inoltre e guardare l'orchestra. Il bello dei video è che ti fanno vedere dove portare il finale dell'interza sinfana di mattina. L'audio è barato, per questo è l'interno. Io vorrei vivere dentro questa musica. E se fosse questa musica. E il suo nome è il testo. Guarda come la tira, guarda come la tira, guarda come la tira, guarda come la tira. Madonna!